Può definirsi una promozione con riserva, quella accordata dalla Corte dei Conti nei confronti del rendiconto economico del Comune di Sciacca del 2015. Pur non ritenendo necessari ulteriori approfondimenti, infatti i magistrati contabili hanno inviato una nota al Sindaco e al Segretario Generale in cui non esitano a rinnovare una serie di rilievi, segnalando quelle che definiscono criticità riscontrate in sede di esame degli atti riferiti all'esercizio dello scorso anno. Criticità in materia di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, equilibri finanziari e ruolo del Comune all'interno degli organismi partecipati. Corte dei Conti che solleva il problema relativo all'assenza di ispezioni o indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività poste in essere da specifici ufficio servizi, sembra quello dei mancati controlli un autentico tallone d'Achille del Comune di Sciacca. Lo si evince anche dagli altri rilievi, quelli riguardanti l'assenza di un sistema di verifica sulla contabilità economica per consentire una misurazione di costi e ricavi e valutare così l'efficienza dell'azione amministrativa. Ma occorrono inoltre, secondo la Corte dei Conti, maggiori controlli interni per migliorare l'efficacia della programmazione e l'efficienza nella realizzazione dei programmi dell'amministrazione. Una criticità viene ritenuta anche alla mancata attuazione del controllo strategico, così come viene censurato dai magistrati il fatto che nel 2015 solo una volta il Consiglio abbia verificato il permanere degli equilibri generale di bilancio. Non è la prima volta poi che la Corte dei Conti solleva anche la questione dell'assenza di programmazione per evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio, problema in vero difficilmente prevedibile che però erode risorse su risorse. Questione è quella dei debiti fuori bilancio che ha visto il Comune di Sciacca dovere riconoscere ben 7 milioni di euro per cause perse. Questione è quella dei debiti fuori bilancio su cui la Corte dei Conti impone a tutti i Comuni di intervenire con la massima priorità. A proposito degli organismi partecipati, ad esempio la Sogeir, la Corte dei Conti ritiene che occorrerebbe attuare il controllo di qualità dei servizi attraverso un apposito regolamento e che occorrerebbe anche tenere pienamente conto dell'andamento economico verificando puntualmente e costantemente la situazione dei crediti e dei debiti reciproci tra ente e società partecipata. Anche in riferimento al conto consuntivo del 2014 la Corte dei Conti aveva rilevato quelle che definisce gravi criticità del sistema dei controlli interni e alla luce dei rilievi formulate anche quest'anno l'organismo auspica di riportare queste situazioni di criticità entro parametri di regolarità e sana gestione per gli esercizi futuri.